Su Marte c'è acqua salata. In piccole quantità lungo la superficie del pianeta, scorrerebbe stagionalmente in forma liquida. L'idea è venuta a scienziati della NASA osservando le immagini catturate dal telescopio IRISE, a bordo della sonda della NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Il fatto che sia presente acqua lo testimonirebbero le tracce scure e lunghe centinaia di metri che compaiono sul pianeta rosso. Fatto interessante è che risultano visibili solo durante le estati marziane.